Pomeriggio dal sapore amaro per la polisportiva Santa Maria che cede il passo alla troina nel recupero valevole per la nona giornata del Girone I. La formazione di Mister Esposito prova in tutti i modi a recuperare una gara che si mette male nel primo tempo con il vantaggio degli ospiti. Poi dopo aver raggiunto il pariggio nemmeno il tempo di festeggiare che subisce il vantaggio nuovamente dei siciliani firmato da Ficarotta. Ma partiamo con ordine. Il match parte subito in maniera positiva per la formazione allenata da Giuseppe Mascara ex conoscenza del calcio nazionale. I suoi trascorsi con il Catania sono ancora impressi negli occhi di molti appassionati di sport. Al settimo minuto e neri a far prendere una grande paura ai padroni di casa. Stacca più in alto di tutti sui sviluppi di un corner e colpisce la traversa. Lo stesso difensore centrale della Troina sempre sui sviluppi di un corner e pericoloso. La palla stavolta carambola sul fondo. La polisportiva Santa Maria risponde con un calcio piazzato di Arcangelo Ragosta. La mira però imprecisa rispetto al gol realizzato contro il Cittanova. A far tremare gli ospiti stavolta e domenico maggio. Al diciottesimo traversa da parte della riete della polisportiva Santa Maria. Poi il colpo di testa di Tombte è debole e centrale tra le braccia di Aiolfi. Al ventiquattresimo è ancora polisportiva pericolosa con Tombte che manda a vuoto due avversari e poi guadagna un calcio d'angolo. Al ventottesimo maggio servito da Conios. Tiro però ferma tutto il direttore di gara per posizione di fuorigioco. Al trentesimo rischia tantissimo e la Troina con l'uscita dai offi a vuoto. L'azione è prolungata con Coulibaly che serve maggio. La girata è bloccata dall'estremo difensore ospite. Dalla parte opposta arriva però il vantaggio della Troina quando meno te l'aspetti. Di Grazia sbuca alle spalle della difesa giallorossa e sorprende Grieco per il vantaggio della Troina. Dalla parte opposta reazione dei Cilentani con un tiro di Ragosta ha deviato in calcio d'angolo. Al trentasesimo De Gregorio serve Tombte che manda a vuoto Ciccone poi l'azione termina sul fondo. Sempre allo scadere De Gregorio sui sviluppi di un corner colpisce di testa miracolo di Aiolfi e si va così al riposo con il vantaggio della Troina. La ripresa ricomincia con una polisportiva all'arrembaggio. Coulibaly al secondo minuto crossa per Maggio. Pallone troppo lungo. Occasionissima al nono per Capozzoli nel frattempo subentrato a Tompte. Miracolo dell'estremo difensore della Troina che mantiene così il vantaggio. Al sedicesimo fallo in area di rigore della Troina. Domenico Maggio vorrebbe la calcio di rigore per il direttore di gara. È tutto regolare e lascia proseguire. Polisportiva ancora pericolosa. Al ventesimo maggio serve Coulibaly. Salvataggio sulla linea da parte di Longo. Si resta così con il vantaggio della formazione siciliana. Al ventunesimo conclusione di Fufue. L'estremo difensore rischia un pasticcio. Dalla parte opposta arriva il primo timidissimo tentativo da parte della Troina con un tiro sbilenco da parte di Cenci. Al ventisesimo ancora una splendida azione da parte dei cilentani ma nulla di fatto. La formazione di mister Mascara riesce a mantenere inviolata la porta. Fino alla mezz'ora quando Capozzoli manda a vuoto gli avversari e guadagna un calcio di punizione. Il fantasista di Aquara si incarica della battuta. Il palone arriva nell'area di rigore. La sfera colpisce prima la traversa. Batti e ribatti. Alla fine è Chiariello a superare Aiolfi per il vantaggio dei cilentani che alla fine vedono premiare gli sforzi fatti fino a quel momento. Ma non c'è nemmeno il tempo di gioire perché dalla parte opposta è ficarrotta su una disattenzione da parte dei cilentani a colpire per l'1-2 con cui si concluderà poi il match. La polisportiva però non molla nei minuti finali. Tiro di Capozzoli strozzato al trentasettesimo. Al quarantaquattresimo invece è Tandara sugli sviluppi di un corner a colpire di testa. Assalto all'arma bianca nei minuti di recupero per la polisportiva Santa Maria. Al novantunesimo punizione di maggio e calcio d'angolo e poi proprio allo scadere occasionissima per la polisportiva Santa Maria con Tandara su una spizzata. Di maggio il pallonetto dell'attaccante con la maglia numero 19 è salvato miracolosamente da Aiolfi. Arriva quindi il triplice fischio del direttore di gara. Il Troina espugna il Carrano per 2-1 per la polisportiva Santa Maria. testa già al derby contro la Gelbison.